Questo è un grande risultato perché comunque consente a tutte le persone con disabilità di avere un'autonomia e una dignità perché anche tornare da soli, avere un servizio che ti consente di tornare quando vuoi e comunque un servizio professionale è una cosa importante. Arezzo diventa ancora più accessibile ed inclusiva grazie ad una convenzione firmata tra Comune, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili e Cooperativa Taxi che permetterà a tutti i disabili di usufruire dell'agevolazione già valida per i non vedenti, ovvero corse in taxi a tariffa ridotta. È il primo Comune in Italia, Arezzo, che unisce le persone con disabilità, la Cooperativa Taxi e l'amministrazione perché la loro mobilità possa essere facilitata e a costi davvero accessibili. Quindi accessibile la città e una modalità per dimostrare un'attenzione particolare verso chi ha delle difficoltà e deve essere supportato. L'ANMIC di Arezzo, la sezione provinciale, è l'associazione che in questo ha cercato di dare una spinta importante su quello che è la mobilità all'interno della nostra città per avere una vita sociale, un'integrazione, una vita lavorativa. Se non c'è questo non esistono i presupposti, se non c'è mobilità non ci sono presupposti per tutto ciò. Grazie ai buoni che l'associazione distribuirà ai suoi associati, la corsa in taxi da oggi dunque avrà un costo fisso e poco più che simbolico. Il servizio è abbastanza semplice, basta chiamare il radio taxi di Arezzo, dire sono un associato, quindi chiedere una corsa in convenzione, con la pedana per i disabili se c'è bisogno e il taxi parte dalla stazione e arriva a prenderlo.